30 pazienti dell'ambulatorio oncologico del distretto sanitario di Materdomine a Nocera Superiore hanno accusato problemi. Il 20% degli utenti avrebbe infatti contratto un'infezione dovuta a problemi che sarebbero stati causati dall'ineficiente pulizia del catetere venoso attraverso il quale viene somministrata la chemioterapia. Per fronteggiare questa emergenza creatasi tra i malati oncologici, la direzione dell'ospedale Umberto I ha predisposto una commissione d'urgenza composta da esperti che seguirà quanti hanno già subito problemi causati dall'infezione o sono a rischio di contrarla. L'equip di medici è seguita dal direttore sanitario dell'Umberto I di Nocera Inferiore Maurizio D'Ambrosio e vede il coordinamento dei primari di oncologia, cardiologia e reparto infettivi. Del gruppo medico fanno parte un oncologo, un cardiologo con esperienza in ecocardiografia, un ecografo e un infettivologo. I medici stanno sottoponendo i 30 pazienti che risultano essere sotto osservazione a una serie di accertamenti clinici per valutarne lo stato di salute generale ed eventuali complicazioni avute. Il trattamento farmacologico prevede l'utilizzo di antibiotici e i pazienti hanno come riferimento la sede del polo oncologico all'ospedale Tortora di Pagani. D'Ambrosio e tutti i medici sono consapevoli della delicatezza di questo caso, visto che il numero dei malati oncologici che hanno contratto l'infezione potrebbe anche aumentare. Gli esperti sperano di scongiurare questa possibilità ed è per questo che proseguono indagini su tutti i pazienti. Le infezioni da catetere venoso in casi estremi potrebbero colpire il miocardio con conseguenze serissime. Intanto le famiglie dei pazienti sono impaurite, indispettite e inviperite. I familiari di una giovane donna recentemente deceduta avrebbero presentato una denuncia formale alla Procura della Repubblica di Nociaro Inferiore. Nei prossimi giorni altri potrebbero fare la stessa cosa.